Un evento degno di nota, quello dell'inaugurazione della mostra personale di Federico Baronello, intitolata Il plurale supera sempre il singolare, che si svolgerà dal 27 maggio al 5 novembre. Questo è l'evento dell'inaugurazione, poi in realtà la mostra ha una durata abbastanza cospicola, che durerà tutta l'estate, finirà più o meno nel periodo delle morti. Penso che è l'inizio, anche il percorso inaugurale, di un percorso che la Fondazione Radice Pura sta intraprendendo, che non è solamente quello legato ai giardini d'autore, ma anche legato a un discorso più legato all'autore, al campo delle arti visive e di altre forme di espressione artistica. Scopo della mostra è proporre un importante gruppo di opere, 21 fotoincisioni e due installazioni interattive inserite all'interno del Parco Botanico Radice Pura. Federico Baronello ci presenta facendo direttamente riferimento a Fernand Brudel, tre nuovi lavori sul Mediterraneo, area molto calda, dove si infrangono tante aspirazioni, ma anche dove si temono le incursioni terroristiche. è un storico famoso perché ha parecchi suoi libri, sulle ricerche, quasi tutta la sua ricerca è incentrata sul Mediterraneo. Il Mediterraneo è anche il mio bacino di ricerca per quanto riguarda la mia indagine fotografica e quindi è Radice Pura, il luogo mio che ospita questa mostra, è anch'esso come come dire il punto, il luogo di rappresentanza di un'attività commerciale, magari quella di Vivai Faro, che ha come bacino appunto di fruitori che è tutto il Mediterraneo, nel senso proprio dai paesi arabi fino magari ai paesi nord europei. Nella cornice suggestiva di questa location da sogno non potevamo non attenzionare il giovane imprenditore siciliano, uno dei fratelli Faro, Mario Faro, che con la sua positiva testimonianza ci racconta che se si vuole in Sicilia si può. Si può fare imprese a sud, si può fare imprese d'eccellenza come molte ci sono, devo dire, nel settore agricolo e nel settore turistico, ma in tanti altri settori. Ci sono tantissimi imprenditori. È chiaro che vanno supportati più, fare imprese a sud è più difficile che farla al nord per tanti motivi, motivi logistici, motivi di mancanza di infrastrutture e di servizi. Però nello stesso tempo, insomma, noi che facciamo sia agricoltura che il turismo abbiamo un clima meraviglioso, oggi è una giornata stupenda. Quello che volevo dire, ricollegandomi prima, è che invece forse ci vuole coraggio a portare cultura e questa è una manifestazione culturale, spinta dalla nostra fondazione, la Fondazione Radice Pura, che ormai ha il suo secondo anno di vita e porta avanti delle iniziative culturali come questa. Questa mostra di questo artista, bravissimo artista siciliano, Federico Baronello, e vuole portare quel pizzico di cultura e quindi suscitare sul territorio anche una riflessione, una riflessione sul bello. Federico Baronello è un artista vivo e la sua ricerca si concentra soprattutto sugli effetti della globalizzazione nell'area del Mediterraneo. La mostra si conclude con una serie di foto incisioni, raffiguranti specie botaniche tipicamente mediterranee, minacciate da batteri e parassiti. Grazie. Grazie. Grazie.